... ... ... ... ... ... ... per ogni categoria fanno tutti la controllazione lì a dove? il capo piccolo dove sono io ah tu vede le fette a domani? eh, no da te partono dalle 8 perciò lo manco adesso a lui la guarda no, qui, qui io sono i camani per ogni categoria però due percorsi per ogni categoria due percorsi per ogni categoria grazie